Magic Mouse è un tipo di mouse del tutto nuovo. È un mouse punta e clicca incredibilmente preciso. Allo stesso tempo, il suo guscio è un unico grande sensore multi-touch che ti dà più libertà di qualunque altro mouse. Magic Mouse funziona per lo più come un normale mouse. Lo muovi e clicchi proprio come fai di solito. Ora però puoi fare clic ovunque. L'intera superficie è un unico grande pulsante. Premi l'angolo in alto a destra per fare clic destro e attivare un menu di scorciatoie. Oppure, se sei mancino, personalizza Magic Mouse per fargli fare la stessa cosa con l'angolo in alto a sinistra. Con Magic Mouse scorrere è tutta un'altra cosa. Sfiora col dito in verticale per scorrere in su o in giù in un documento o in una pagina web. Magic Mouse registra la velocità del tuo gesto e ne conserva lo slancio nello scorrimento. Muovi il dito in orizzontale per scorrere a destra o a sinistra. Puoi anche scorrere a 360 gradi per muoverti all'interno di un documento o di una foto. Magic Mouse è così intelligente che sa capire quante dita stai usando e come le stai usando. Sfiora con due dita verso sinistra o destra per sfogliare la tua musica in iTunes, o le tue foto in iPhoto. Se vuoi ingrandire ciò che vedi sullo schermo, puoi usare Magic Mouse come una lente istantanea. Tieni premuto con un dito il tasto CTRL sulla tastiera e scorri verso l'alto per fare zoom sullo schermo. Scorri in giù per zoomare indietro. Per personalizzare il tuo Magic Mouse nel modo che preferisci, apri le preferenze di sistema del Mac e clicca su Mouse. Puoi scegliere la velocità di spostamento e del doppio clic, impostare il clic destro per usarlo con la mano sinistra, o se preferisci usare il Magic Mouse come un mouse tradizionale, puoi disattivare del tutto le funzioni multitouch. Per vedere tutto quello che Magic Mouse sa fare, vieni a provarne uno all'Apple Store più vicino.